Ciao a tutti, folettini e folettine, bentornati. Non tu, capra ignorante, ignorante! Una cosa una volta per tutte, perché... Ma sale con me, cos'è? E ho letto dei commenti negli ultimi due video allucinanti. Allora, prima di tutto... Io non sono sporca e mi lavo. Il bagno e la doccia li faccio tutti i giorni e lo shampoo una volta a settimana, perché... Ma che tenga avrei? Non me ne fai! Quindi non continuate a scrivere che sono sporca, perché non è assolutamente vero. Secondo me, si non scorre a forno. Assolutamente. Io mi trucco solo quando è il momento. Se devo andare a qualche festa, se devo andare in un posto importante... Ma giustamente per fare video mi sembra sciocco e stupido truccarmi solo per fare un video. Ma mi piace, ragazzi, ma che merda? Preferisco farmi vedere al naturale, per come sono io. E poi un'altra cosa... Voi non dovete guardare il mio aspetto fisico. Dovete guardare il contenuto. Di quello che io vi mostro. Vi mostro le mie bambole Reborn, la mia passione per le bambole Reborn. Bene, guardate quella. Vi mostro i miei lavoretti creativi. Guardate... Guardate... Guardate quello che io vi mostro nel video. Se vi piace quello, bene. Se no, pazienza. Ma non guardate il mio aspetto fisico, perché quello non c'entra nulla. Non c'entra assolutamente nulla. Stiamo rassentando veramente il ridicolo adesso, follettini e follettine. Io non so più cosa fare. Mi state facendo passare la voglia, sinceramente, di fare video e di chiudere il canale. Ma io non voglio questo, perché ci tengo troppo al mio canale. E non solo per una questione economica di guadagno. Però lo faccio anche e soprattutto per passione. Perché amo fare video, amo mostrarvi le mie passioni, quello che mi piace, quello che so fare. Tutto lì... Non dovete guardare il mio aspetto fisico. E dire che sono sporca solo perché non uso creme, non uso trucchi, non mi bellezza... Se non volete continuare a seguirmi, disiscrivetevi, nessun problema. Di uno che si disiscrive, 100.000 che ne acquisto, non è un problema per me. Io sono una persona semplice. Non sono come tutte quelle ragazze moderne che si truccano, si imbellettano per farsi vedere. Io non voglio mostrare il mio aspetto, voglio mostrare quello che so fare. Non sono come una parte, e non lavare il mio aspetto, non si fate...